niente da fare non c'è campo il telefono non prende aspetta ci penso io mi scusi signorina non è che potrebbe darmi la password del wifi come non detto lui ma dove siamo finiti non lo secondo te ci verranno mai a salvare o i miei dubbi il film missione giungla il cinema